Buongiorno e bentrovati In questa edizione di Mattino 6, venerdì 19 maggio, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali ma anche a vedere le prime pagine delle testate nazionali oltre che a rivedere alcuni dei servizi realizzati ieri dalla redazione del TG6 Iniziamo subito con le prime pagine delle testate locali, le quattro edizioni del centro poi Messaggero Abruzzo e la città Qui siamo all'edizione aquilana del centro con l'apertura Senteisti difese al contrattacco Sul Mona i testimoni scagionano i dipendenti comunali finiti sotto inchiesta La fotonotizia che sarà comune per le quattro edizioni così come anche alcuni richiami di cronaca La fotonotizia dedicata alla senatrice del PD Stefania Pezzopane che come leggiamo va in procura e mostra il suo certificato Basta falsità, non sono indagata E poi di spalla, bussi, la sentenza I giudici, avvelenamento e disastro ci sono stati In basso altri richiami Le province siamo pronti a chiudere strade e scuole E poi ad Avezzano indenità Tedeschi deve risarcire il CAM In basso verso il voto Gran Sasso, banca che divide L'Aquila apre lo sportello in città ma è bufera politica E andiamo alla prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto con la notizia del nuovo rettore dell'Università d'Annunzio Ed è Caputi il nuovo rettore al terzo scrutinio il direttore di Scienze Mediche stacca stupia di 62 voti E poi ancora in basso a Chieti muore in bici travolto da un camion A Francavilla il manifesto diventa sessista l'immagine degli eventi dell'estate scatena la bufera La prima pagina dell'edizione Terramane è adesso più controlli sull'acqua li annunciano Asle e Ruzzo nel forum al centro insieme ad un piano di emergenza E poi in basso c'è questo richiamo relativo alla vicenda della funivia a Terramo Brucchi, i soldi della funivia restino in città E poi in basso incidenti morti due anziani a Roseto e Villavomano il primo travolto da un'auto nell'altro per un infortunio agricolo E siamo ora alla prima pagina di Pescara del centro di Pescara Ateneo è Caputi il nuovo rettore anche in questo caso si dà spazio alla notizia del nuovo rettore E poi in basso a Montesifano immigrati in tensioni in consiglio comunale E poi anche qui si riprende la notizia del manifesto che diventa sessista a Francavilla al mare Poi vedremo anche all'interno del centro l'approfondimento della notizia La prima pagina del messaggero Abruzzo Il titolo d'apertura Tenta il suicidio per Balena Blu Una ragazza pescarese di 16 anni Vittima del gioco mortale che dilaga tra i giovanissimi Una catena di atti di autolesionismo fino alla prova estrema Decisivo l'allarme delle amiche E poi ancora sotto la testata Provincie povere senza soldi Cittadini a rischio A Roma la protesta dei residenti Bussi riparte Un investimento da 50 milioni I piani di Filippi Per il basket Roseto alla pari con Bologna Proger una vittoria a Forlì La grande notte delle abruzzesi impegnate nei play-off e play-out In serie B entrambe in casa sia Campri che l'amatori Pescara E poi anche sul messaggero trova spazio questa notizia Francavilla sessista No copiato Bufera sul manifesto del cartellone estivo E poi ancora al centro Leggiamo la pezzo pane Dice non sono indagata Online il certificato In taglio medio Nuovo rettore all'adannunzio Letto Caputi Il direttore di odontoiatria Si impone sul rivale Liborio Stupia Al terzo scrutinio La fotonotizia Bellaiuole e Savane Il verde a due facce A Pescara I lavori in vista dell'estate Poi in basso No filo via Ecco le alternative Affinché i fondi restino nella città di Teramo E non vadano altrove La città L'apertura dedicata al comune di Roseto Ispettori del ministero in comune Dopo i rilievi della Corte dei Conti Da martedì passate al setaccio Spese del personale E assunzioni Sotto la testata L'osservatorio Mette in riga Arta Asl E Ruzzo Al centro c'è la fotonotizia Aiuterò Chi ha bisogno Il senza tetto milionario È tornato A Villapetto E poi ancora di spalla A Giulianova Smantellato Il deor Delle polemiche A Roseto È morto il 73enne Travolto in scooter Da una 50enne A controguerra 41 indagati Per i due morti Sotto il cavalcavia E poi sempre in basso A Teneo e Bici Rapporti strettissimi Lazio lancia Bike to Study Gli architetti La ciclo pedanale E poi L'anniversario Ci vorrebbe un Marco Pannella Al nostro fianco E poi leggiamo anche sulla città Dal comune di Teramo Controproposta Per i milioni Della funivia Possiamo lasciare Per il momento Le prime pagine Delle testate locali Poi chiaramente Le valieremo All'interno Vedremo le pagine Interne Intanto Ora passiamo Alle prime pagine Delle testate nazionali Partiamo dal Corriere Della sera Coltella Soldato E agente In stazione di Milano L'aggressore E un giovane L'ipotesi Della radicalizzazione Maroni Marcia Per i profughi Va annullata Dice appunto Maroni Sala Più attenti Alla sicurezza E poi Sotto la testata PD costretto A rinviare Sulla legge elettorale Pro di critica Renzi No al segretario Premier E poi di spalla Draghi annuncia A sorpresa La crisi In Europa E alle spalle Poi Possiamo Lasciare Il Corriere Della sera E andare a vedere La prima pagina Di Repubblica Questa l'apertura Orlando Abusi Nelle intercettazioni Bisogna approvare Subito La legge Intervista al ministro Quella telefonata Non doveva uscire Complotto contro Renzi Mostri Le prove E poi Sotto la testata Vita di Giovanni Falcone L'uomo che sconfisse La cupola Della mafia Che cosa resta Della sua lezione 25 anni dopo La strage Di capaci Di spalla Altro sospetto Su Trump Prese Soldi Da Putin E poi Al centro Giovanni Magrebino Accoltella Tre agenti In stazione a Milano Escluso il terrorismo Ma è allarme Sicurezza Prima pagina Del fatto quotidiano L'apertura Consip Pressioni Del Renziano Bianchi Per le casette Del sisma L'avvocato Tuttofare Sponsorizzava Un consorzio Di Coop Rosse Poi Sotto la testata Verdinellum Col 30% Dei voti Governi Col 55% Posizioni Ed NCD Già uniti Sul rinvio Poi Fisco Fuori La Orlandi Arriva Il Leopolda Boi Scavalcato Persino Padoan La direttrice Da tempo È in visa A Matteo Inteso come Renzi Così da Equitalia E in arrivo Il fedelissimo Ruffini Poi Taglio medio Muller Usato sicuro È lui che Indaga Sul Russia Gate L'ex Del FBI Convince Tutti Il messaggero L'apertura Con le parole Del presidente Della BCE Draghi La crisi È alle spalle La ripresa In Eurozona È resistente Sempre più ampia Verso il rialzo Dei tassi Statali Più risorse Per i precari Licenziamenti Dopo tre Giudizi Negativi Stretta Sulle Visite Fiscali E poi In alto Leggiamo Della morte Del conduttore TV Daniele Piombi Addio al signore Dei conduttori Inventò L'Oscar TV E poi Un abruzzese Che è vicino Alla panchina Della Roma Toto allenatore Spalletti Non decide La Roma Pronta A scommettere Su Eusebio Di Francesco E poi Per la politica Tensioni Sulla riforma Legge elettorale Berlusconi Lancia L'offerta A Renzi La fotonotizia New York Terrore a Times Square Auto nella folla Ma è solo Un incidente Autista drogato Un morto E 22 feriti In taglio medio Vaccini Scontro nel governo Sull'età Dell'obbligo A scuola Decreto in bilico Lorenzin Fino a 10 anni Per la Fedeli Solo Per le materne Libero Ecco l'apertura Etruria E le altre Le banche Che derubano i morti Per il 75% Dei truffati Dai Quattro istituti Di credito Falliti Due anni fa I rimborsi Non sono ancora partiti E se nel frattempo Il titolare del conto È deceduto Il fondo Incaricato dal governo Si rifiuta Di liquidare Gli eredi E poi La foto al centro Il commissario Calabresi Ucciso 45 anni fa Prima lo ammazzano Poi lo fanno Santo Punti di vista Abbiamo letto Delle parole Del presidente Della BCE Draghi Secondo cui La crisi È alle spalle Ebbene Nell'articolo Di Giuliano Zulin Secondo Draghi La crisi è finita Noi però Non ce ne siamo Accorti La prima pagina Del giornale Aria di capro espiatorio Babbo Renzi La resa del capitano Il carabiniere Scafarto al telefono Pagherò io Per Woodcock Intercettazioni Tra Napolitano E PD Volano insulti Poi ancora La fotonotizia Auto sulla folla A New York Terrorismo No Un drogato E poi Primo stop Al blitz di Renzi E compagni Legge elettorale In aula A giugno Ma in Senato I numeri Non ci sono Avanti con la prima pagina Del tempo Pure Renzi Mi vuole Io penso Ad Amatrice Dopo l'affondo Del centrodestra L'idea Dem Il sindaco Parliamo Del sindaco Pirozzi Di Amatrice Farò il partito Dello scarpone Tra le Macerie E poi L'editoriale Del direttore Gianmarco Chiocci Un anno Senza Pannella Appunto Nella ricorrenza Di un anno Dalla scomparsa Del noto Domani Domani Senda molto grave Al confine Non contano Non contano Di Draghi Dei pensieri Possiamo così Lasciare La parte dedicata Alle prime pagine Dei quotidiani nazionali Torniamo ai quotidiani locali E siamo sul centro Pagina 2 e 3 La sentenza di bussi Avvelenamento e disastro Ci sono stati In 250 Pagine I giudici Spiegano i motivi Delle condanne in appello Il dolo Non è provato La colpa c'è Ma in parte Prescritta E poi Le frasi shock Della sentenza Quasi 2 milioni Di tonnellate Di terreno Contaminato In basso In appello 10 condanne Fino a 3 anni Nel febbraio scorso I giudici Aquilani Hanno ribaltato Le assoluzioni Disponendo Maxi risarcimento E poi La crisi Delle province Più fondi O chiudiamo Strade e scuole Appello Dei presidenti Abruzzesi Alla vigilia Della manovrina Del governo In gioco 540 milioni Per evitare Il dissesto E poi Ci sono Delle dichiarazioni Il presidente Della camera Boldrini Delle province Sollevate legittime Richieste Provenienti Dai cittadini Poi Melilla Di MDP L'ANAS È inattivo Mentre le province Sono rimaste Senza un euro E poi Anche Le parole Di Paolo Tancredi Il governo Non pensa Di trasferire All'ANAS La competenza Per le strade Ci sono Anche Le dichiarazioni Del presidente Della provincia Di Pescara Antonio Di Marco Su di noi Tante responsabilità Lo Stato Si assuma Le sue Avanti Avanti ancora Con le pagine Della regione Abruzzo Ecco qui Ambiente E finanziamenti Europei A parchi E aree protette Arrivano 9 milioni Per diventare Attrattivi Sentieri Da riqualificare Sistemi online E di coltivazione Accolti 32 progetti Su 36 Di comuni Consorsi Edenti Locali E qui Abbiamo Uno schema Riepilogativo Delle gradatorie Dei progetti Che sono stati Approvati Con i relativi Importi E andiamo a vedere Il servizio Realizzato Dalla redazione Del Tg6 Sessore Di Matteo Si parla di fondi Europei Destinati ai parchi Alle riserve Abruzzesi Alle osi Un punto Importante Come ha detto lei Non di arrivo Ma di partenza Sicuramente Intanto Va rimarcato Che è la prima volta Che la regione Abruzzo Fa un bando E una graduatoria Per risorse Da destinare Alle aree protette Il secondo aspetto Importante È che noi abbiamo Introdotto Una tempistica Che a breve Mette nelle condizioni Di poter Realizzare Rendicontare Le opere Entro L'estate Del 2018 Il terzo aspetto Che queste opere Hanno una strategia Complessiva Per cui ci muoviamo Nella direzione Di valorizzare Le aree Le aree Della montagna E le aree protette Soprattutto Tutte le aree protette In ragione Di una strategia Per aumentare L'appel Turistico E promozionale Della nostra regione In concreto Assessore A quanto Ammontano Questi fondi I fondi Sono 7 milioni E mezzo Mancano L'appelo Un milione Per cui Devono essere Messe a disposizione Un ulteriore milione Per completare Il finanziamento Di tutti i progetti Che sono stati presentati Importante Anche il coinvolgimento Dei comuni Interessati Questa è una metodica Che ho sempre avuto Come punto Di riferimento La condivisione Mai progetti calati Dall'alto Sono progetti Che nascono Dal confronto Con gli interessati E un nuovo modo Penso innovativo Anche questo Di produrre le idee E di realizzare i progetti E siamo alle pagine Della cronaca di Pescara Le liste d'attesa Risonanze Tacche Visite C'è da aspettare 12 mesi I tempi Si allungano E ora la ASL Approva un piano E chiede Aiuto Ai privati Poi Altre grane Nel comparto Sanitario La Will Radiologia Senza primario Da due anni Nel mirino Del sindacato L'atto aziendale Non rispetta La linea guida Della regione La nuova unità operativa Di fisica ambientale È in conflitto Con le funzioni Dell'Arta Avanti Ancora C'è Questa pagina Aquilana Della politica Biondi Si presenta Centrodestra Unito Per la riscossa Folla Al ridotto Del teatro Con i big Pagano Pelino E Di Stefano Con un granello Di sabbia Incepperemo Il sistema Di potere Del PD L'aspirante sindaco Promette una città Inclusiva Identitaria Accogliente Solidale Critica L'operato Del centrosinistra Troppe zone d'ombra Noi siamo Diversi E poi in basso L'estrema destra Casa Pound Famiglia E lavoro Il movimento Lancia La candidata Pagliariccio No Hai Volta Gabbana E torniamo A Pescara Aushan Diminuisce L'esubero Di addetti E la galleria Si rinnova Prorogata La solidarietà Per i 160 Dipendenti Dell'ipermercato Gli spazi Dei negozi Ridisegnati Come un Borgo D'Abruzzo Per Davide Frigelli Della CIS Il ricorso All'ammortizzatore sociale Ha evitato I licenziamenti L'ipermercato Potrebbe trarre Nuova linfa Dai lavori In corso E poi Questa Vicenda Di cui abbiamo Letto Già nelle prime pagine Di Centro e Messaggero La copertina contestata Francavilla Estate Bufera Sul manifesto Piovono accuse Di plagio E di sessismo E il sindaco Luciani Cade Dalle nuvole E poi In basso Il ponte nuovo Si chiamerà Flaiano Via libera All'intitolazione Dalla commissione Toponomastica Del comune Siamo alle pagine Di Montesilvano Consiglio Infuocato No alla convivenza Aula invasa Da residenti Dei quartieri Destinati a ospitare I richiedenti asilo Tra applausi e fischi Il progetto Va avanti Il sindaco Dice L'unico sistema Per fronteggiare Questa responsabilità E lo Sprar In basso La cronaca Bimbo investito Mentre attraversa La strada Città Sant'Angelo 12enne Ferito In viale Petruzzi Da un'automobilista Alla guida Senza patente Maiella E Morrone Stipendi In ritardo Dall'anno La samidad Ai sindacati La comunità montana Non ci paga Da novembre 2016 Così Non possiamo Saldare E invece Appenne Vertice Sulla fusione Dei reparti La Fialza Ottiene un incontro In prefettura Con regione Asl E comune E siamo Alla pagina Di Chieti Con la Tanto attesa Fumata Bianca Ed è Caputi Il nuovo rettore Per 62 voti Al terzo scrutinio Il direttore Di scienze mediche Stacca il rivale Stuppia Su di lui Convergono Trinchese Fusero E Capasso Prende il posto Di Dillio Di missionario A causa di un'inchiesta Che lo vede coinvolto Insieme al DG Del Vecchio Poi in basso Muore con la bici Travolto da un camion Tragedia A Chieti Sulla Tiburtina Un 79enne Di Manopello Investito Mentre sbuca Sulla strada Statale Pagina Dell'Aquila Con la Vicenda Legata Alla Senatrice Stefania Pezzopane Che Dice Basta falsità Non sono indagata La senatrice Va in procura E appura Che non c'è L'avviso di garanzia A solidarietà Dal PD In arrivo Una denuncia Per calugna E diffamazione Il verbale Dell'imprenditore Ciociaro Capogna Accusa La parlamentare Di aver preso Soldi sotto banco Ai tempi Delle provinciali Del 2010 Ma lei Smentisce A tutto campo Apre Banca del Gran Sasso Bufera politica Di Benedetto Annuncia L'ok Di Banca Italia Alla fusione Con Banca del Vomano Critiche Da Fratelli D'Italia E Cinque Stelle Avanti ancora Con La pagina Di Teramo Il caso Gran Sasso Più controlli Sull'acqua E piano Per l'emergenza Il forum Del centro Con i vertici Del Ruzzo E della ASL Sull'allarme Sicurezza Le parole Del manager Fagnano Ci voleva Più cautela Prima di dichiarare La non potabilità Si dovevano fare Le analisi E poi Il presidente Del Ruzzo Forlini Se la regione Non ci confermerà Le captazioni Sarà Una Catastrofe E poi Ancora In basso Muoiono In ospedale Dopo gli incidenti Un 72enne Travolto Da un auto A Roseto Un ottantenne Ferito Da un Imballatrice A Villa Vomano E allora Con la pagina Terramana del centro Noi ci fermiamo Con la prima parte Di mattino 6 Diamo lo spazio Ora alle previsioni Del tempo Poi alla pubblicità E poi rientriamo Per sfogliare Le pagine In particolare Del messaggero Abruzzo E della città A dopo Di nuovo Buongiorno E la seconda parte Di mattino 6 Che riprendiamo Con il messaggero Abruzzo E con La crisi Delle province Zero soldi Per scuole e strade La rabbia Delle province Povere A Roma La protesta Dei presidenti Intrappolati Nella mancata Abolizione Degli enti Ormai È a rischio La sicurezza Dei cittadini Mancano All'appello 500 milioni Di euro Di trasferimenti Statali La richiesta Di modifiche Alla finanziaria Poi I veleni Di bussi Il calcolo Dei tempi Decisivo Per le condanne In appello I giudici Dell'Aquila Hanno depositato Le motivazioni Spostate in avanti Le date Di disastro E avvelenamento E siamo Alla pagina Di pescara Verde pubblico La città Bella a metà D'aiuole Perfettamente Curate E giardini Lindi Corrispondono Giungle urbane Che non sarà possibile Sistemare In tempi brevi L'avvio dei grandi eventi Dai bersaglieri All'Ironman Coglie In contropiede Il comune Blasioli Abbiamo solo Cinque operai Da Viale Pindaro A Viale Kennedy È lungo L'elenco Delle strade In completo Disordine Alla vigilia Dell'estate Il caso limite Della riviera Verso il mare Tutto ok Rami Ed erbacce Sull'altro lato Intanto Piantati i lecci Donati dal Lions Club In via Fabrizi Cerimonia di Messa Di Mora Con il sindaco Alessandrini E la presidentessa De Martis E poi Ancora In basso Leggiamo Premi Alle imprese In rosa Andiamo avanti Con la cronaca Balena blu Ragazzina Tenta il suicidio Una sedicenne Pescarese Vittima Del gioco mortale Che diraga Tra gli adolescenti Una catena Crescente Di atti Di autolesionismo Era pronta A buttarsi Dall'ottavo piano Fermata Dalla polizia Dopo l'allarme Delle amiche E ricoverata Al Salesi Di Ancona Squadra mobile Pol Post Indagano sul caso Il timore Di una forte azione Di proselitismo Sui social Network Bussi Maxi Impianto Farmaceutico Rilancia Le officine L'imprenditore Veneto Filippi Ieri In Paese Svela I suoi piani Il primo passo Sarà la sede Legale Poi spazio Al sito Produttivo L'industriale Ha acquistato 25 mila Metri quadri Di terreno E una scommessa Da vincere E poi Accorporamenti Reparti al San Massimo Di Penne Il prefetto Convoca Il direttore Dell'Asl Siamo alle pagine Dell'Aquila Biondi Show Ora Possiamo Vincere Il candidato Sindaco Del centrodestra Ha presentato Le sue sette liste Ecco il granello Che incepperà Il sistema Di potere Della sinistra Gremito Il ridotto Del teatro Musica Di priviero E filmati Campagne elettorali In stile americano Con t-shirt E spillette Il politico Cita Aristotele Ma anche Guccini Con la piccola città Questi mattoni Parlano E poi ancora Apre il live Un video Con una bambina Terremotata Che consegna Un mattoncino E poi ancora Liste civiche E rifondazioni Puntano su Carla Cimoroni Noi Il terzo polo Tra le Priorità Sicurezza Servizi E ricostruzione Nessun accordo In caso Di ballottaggio Presentata anche La lista Di Casa Pound Vicini ai cittadini Con raccolte alimentari E dopo scuola Gratis In basso Apre Banca Gran Sasso E del PD Dicono da Fratelli d'Italia Di Benedetto In qualità di presidente Annuncia Il via Libera L'ira Di Malafoglia Avanti ancora Siamo La vicenda Pezzopane Pezzopane in Procura Non sono indagata Basta falsità Su di me La senatrice pubblica Su Facebook Il documento Della magistratura E ribadisce Ora procederò Per diffamazione Contro Capogna L'imprenditore Marsicano Avrebbe parlato Di mazzette Intascate Dalla ex Presidente Della provincia E poi ancora In Marsica Laboratorio Analisi Giallo Sul destino La doppia Denuncia Del comitato Ristretto Dei sindaci E del centro Per i diritti Del cittadino Sul possibile Smembramento Sarebbe un ulteriore Deleterio passo Indietro Per quanto riguarda I servizi Che interessano La Marsica Poi scontento E perplessità Il consigliere Pisegna Orlando Interessato Alla vicenda E poi ancora In Valle Peligna Due cervi Travolti E uccisi Sull'altopiano Cinque miglia La pagina Di Chieti O meglio Le pagine Della cronaca Di Chieti Sul messaggero Abruzzo Elezioni Alla d'annunzio Caputi Il nuovo rettore Il direttore Iodonto Iatria Si è imposto Di misura Sul rivale Stupia Al terzo scrutinio Determinanti I voti Confluiti Sul vincitore Da parte di Trinchese Fusero E Capasso Il risultato finale È stato Di 349,96 Contro 287,5 Porterò Una Rinnovata Concordia E poi Soldi Spariti Dai libretti In due A rischio processo Per l'accusa La circonvenzione Nei confronti Di alcuni Ospiti Delle case Di riposo In basso Si schianta In bici Contro camion E muore Il racconto Del testimone È stato Terribile La vittima Si chiama Palmerio Carulli Incidente A Brecciarole È andato a sbattere Sulla ruota anteriore Del mezzo pesante Guidato da un 42enne Di guardia grele E poi Siamo a Vasto Il prefetto Sicurezza Nessuna Emergenza Antonio Corona In consiglio comunale Reati in diminuzione Smentiti I politici Che ritenevano Superata la soglia Del rischio E poi Il procuratore capo Di Florio Raggiunti i risultati Lusinghieri Dice La piaga È il diffuso Mancato rispetto Del principio Di legalità Ma le opposizioni Incalzano I cittadini Non guardano Le statistiche Malessere Oramai Crescente Poi ancora A Lanciano Multe Al funerale Il comune Chiarisce La comunicazione Delle auto In transito Nella ZTL È a carico Della impresa Funebre Siamo alle pagine Di Teramo Al posto Della cabinovia I percorsi ciclopedonali I fondi Del progetto Masterplan Arriva La proposta Degli architetti Ma la provincia Vorrebbe vincolare I soldi Per la rete Ferroviaria Della costa E parla appunto Il presidente Della provincia Di Sabatino Dobbiamo delocalizzare La centrale Enel Situata Al Cona Poi per la cronaca Muore lo scuterista Travolto Dall'auto L'anziano Di Roseto Non ce l'ha fatta Dopo l'operazione D'urgenza In neurochirurgia E poi In basso In bici L'università L'Azù Ti paga A Giulianova De Hor Smontano Ma arrivano Lo stop Centinaia di persone Richiamate In piazza Il titolare Scopre Una irregolarità Della ditta Ed ecco L'ispettore Del lavoro Massimo Zarroli Ha presentato Una denuncia Ai carabinieri Arriva La nota Del comune Non hanno Rispettato Gli accordi In città Un altro Abbattimento E una multa Per taglio Di alberi E poi Sul salinello Vuole gettarsi Dal viadotto Salvato Ragazzo Di 23 anni Lasciamo così Il messaggero Abruzzo Andiamo sulle pagine Della città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Partiamo dalla pagina Della regione Abruzzo Ovvero Pagina 3 Che andiamo A sfogliare Eccola qui Pulizie scolastiche Oggi lo sciopero Degli addetti Presidio Dei lavoratori Di fronte alla sede Della provincia Di Teramo Per il mancato Rinnovo Del contratto Il sit-in Si terrà In concomitanza Con l'incontro Nella sede Della provincia Di Teramo Tra i sindacati Di categoria Filcamps CGL Fizzascar CISL Il presidente Della provincia Di Sabatino E il vicepresidente Della regione Giovanni Lolli Poi in basso Lavoro nero E sfruttamento Ancora presenti Nell'agricoltura Abruzzese Ieri mattina Nell'aula tesi Della facoltà Di giurisprudenza A Teramo La giornata In memoria Dei caduti Nei campi Poi ancora Il dossier Ruzzo Il sì Del dulce Al grande Acquedotto Appunto Del ruzzo Il 2 settembre Del 1929 Grande festa In città Per una data Storica Il capo Del governo Annuncia Il finanziamento Che suggella La nascita Di una gigantesca Opera sanitaria Igenica E civile Tutto questo Appunto Nell'ambito Del reportage Della città Della città Che sta Ripercorrendo Ancora Ancora con L'eredità Ora Aiuterò Chi ha bisogno Il senzatetto Gianni Di Rocco Dopo 12 anni È tornato A Villapetto Per incassare La fortuna Lasciatagli Dalla zia Il senzatetto Ha già firmato Un contratto Con la giornalista Angela Trentini Per scrivere Un libro Controproposta Di Brucchi Sui milioni Della funivia Il sindaco Detta la sua Lista Della spesa Alternativa A quella Del presidente Renzo Di Sabatino Qui abbiamo Le due Proposte Da un lato Quella formulata Dal presidente Della provincia Di Sabatino Dall'altra Quella formulata Dal Sindaco Brucchi Dopo che Non è stata Accettata Sostanzialmente Dal comune Non è stato Accettato Il progetto Della funivia Che avrebbe collegato La città All'università A Colleparco A proposito Di università Un percorso Ciclopedonale Per unire Città E università E la proposta Dell'ordine Degli architetti Alternativa Alla funivia Prevista Nel masterplan E bocciata Dal comune L'opera Collegherebbe Il parco Del Vezona Vezona All'ex Casa Dello studente Con punti Sosta Attrezzati Fino al campus Del quartiere Di Colleparco Studenti Al voto Per il rinnovo Delle rappresentanze Mercoledì e giovedì Elezioni Per i consigli Studenteschi I collegi Di facoltà E delle scuole Di specializzazione Sette liste In corsa Liste candidate E programmi consultabili Sul sito Di Unite E sulle pagine Social Dei gruppi Universitari Brucchi E qui siamo Alla politica Stretto Tra i Tra i Paoli E gli ultimatum Dissidenti Prima La nuova giunta Oppure il consiglio Rivelatore La mediazione Del sindaco Si fa sempre più Complicata I Paoli Sono Paolo Gatti E Paolo Tancredi Poi ancora Avanti Con le notizie Dalla provincia Tortoreto Di Nicola Accende dalla campagna Elettorale Chi si ricandida Vestendo i panni Da statista Il responsabile Dei problemi Critiche Alle passate Amministrazioni Anche sulle scuole Nel 2004 C'era già Un progetto Avanti Siamo a Giulianova Il comune Vince la guerra Del decor Niente da fare Per il biestro La struttura Abusiva E' stata smantellata Non è stato mai concesso Il nulla osta I lavori Sono iniziati Prima Del rilascio Dei permessi Poi sempre Il sindaco Mastromauro Chiude la carella Sulle eventi estivi Il sindaco Annuncia che si procederà Senza un bando Dopo settimane Di discussioni E a Roseto Ispettori Del ministero In municipio Al setaccio Tutti i documenti Sulle spese Del personale E le retribuzioni Sarebbe un passaggio Dovuto Quello della verifica Dopo i rilievi Mossi dalla Corte Dei Conti Sui bilanci Degli ultimi anni E sempre a Roseto Sbloccato il caso Dello stabilimento La Lucciola La regione Ha autorizzato il comune Ad affidare lo chalet Tramite un bando Avanti ancora Sempre a Roseto E' morto l'anziano Travolto in scooter Antonio Di Carlo Da mercoledì Era ricoverato Al Mazzini Di Teramo Il 73enne A bordo dello scooter Sarebbe stato tamponato Da una macchina In viale Europa Avanti ancora Siamo alla pagina Dello sport Ilari Primo Playout Gare imprevedibili Il centrocampista Mette in guardia I suoi In vista di domenica Dobbiamo giocare Come se non avessimo Vantaggi Petrella ancora Fuori causa Nella giornata di oggi Teramo partirà Alla volta di Lumezzane Non farà parte Della comitiva Mirko Petrella Che potrebbe tornare A disposizione di Ugolotti Per la gara di ritorno Con i Lombardi Allora ascoltiamo Anche noi le parole Del centrocampista Teramo Ilari No E' la prima volta Sì Che faccio i playout Niente La sto Preparando come è giusto Che sia Con la giusta Attenzione La giusta concentrazione Cercheremo di arrivare Nel migliore dei modi Stiamo appunto Allenandoci per questo E' scontato dire Che saranno due partite Difficilissime E che Fanno parte di un Di un campionato Che Cioè non fanno parte Del campionato Nel senso che Sono due partite a sé E quindi A maggior ragione Dovremmo prestare Attenzione Io penso che sia giusto Non tenerne conto Soprattutto Soprattutto in funzione Della gara di andata Noi dobbiamo Dobbiamo fare la nostra partita Dobbiamo cercare di Giocarci La partita Come è giusto che sia Pensando a far gol E cercando di vincere Il gruppo è tranquillo E concentrato Che è la cosa più importante Abbiamo Insomma La giusta serenità E' chiaro che La pressione Piano piano Con l'avanzare Dei giorni Aumenta E cresce Dobbiamo arrivare Con la giusta Attenzione La giusta concentrazione Senza farci Troppo prendere Appunto Da questa pressione Che arriverà sicuramente Nei giorni precedenti Alla partita E' una squadra Che ci può mettere In difficoltà Perché ce lo ricordiamo All'andata Che insomma Vinse la partita Meritatamente E al ritorno Riuscì a pareggiare Quindi Se guardiamo le partite Che abbiamo fatto con loro Dobbiamo prestare Molta attenzione Hanno fatto 4 punti Su 6 E questo ci deve far capire Che Saranno Saranno partite difficili Nelle ultime gare Hanno cambiato spesso modulo E anche interpreti Sappiamo che hanno degli esterni Molto bravi Che soprattutto in ripartenza Possono farci male Quindi Dobbiamo fare una partita Una partita Di attenzione Senza scoprirci troppo Riguardo i giocatori In particolare Ovvio che Qualche informazione Ce la sta dando Però Penso sia una cosa normale Alla fine Lui riconosce Quindi Qualche piccolo consiglio Ce lo sta dando Poi E' chiaro che Quando si va in campo Non è che Contano più di tanto Perché uno pensa Ovviamente a quello Che deve fare E ai propri compiti Però si Qualcosa abbiamo chiesto Allora Proseguiamo con Con le pagine Della città Siamo allo spazio CSI L'ultima pagina Che vediamo Prima di tornare Sul centro Scattano le finali Provinciali Del CSI Ecco i protagonisti Il quadro completo Delle 10 finaliste Nei 5 campionati Targati Centro Sportivo Italiano Ben 5 Le gare previste Ogni giorno Tante le discipline Che vivranno La fase Conclusiva Torniamo Ora sul centro Siamo Alle pagine Del calcio Per il Pescara È già tempo Di calcio Mercato Il Pescara Punta vitale In attacco C'è l'idea Vido Chiesto alla Juventus L'ex Lanciano Piace La punta Del Milan Che ha chiuso Alla grande Il campionato Con il Cittadella Segnando Tanti Tanti gol Cittadella Che ora Dovrà disputare I playoff Nonostante la secca Sconfitta Di ieri A Chiavari Al via Le grandi manovre Dopo Gans Nuovi contatti Con il club Di Agnelli Che detiene Il cartellino Della Mezzala In forza Al Cesena Vitale Che qui vediamo Proprio con la maglia Del Lanciano Avanti Ancora Con Leggere Altri spunti Che da la pagina Del centro Sul mercato La difesa Subirà Un profondo Restyling Sul tacquino Dei dirigenti Ci sono Capradossi E Meccariello Ieri A Pescina Vittoria per 4-1 Nel test Con il Fondi Davanti A 700 Spettatori Benali Ricorso Respinto Avanti Siamo con La pagina Della Lega Pro Teramo Oltre 200 tifosi A Lumezzane Mobilitazione In città Pullman E minibus Per seguire I biancorossi Nella sfida Che mette in paglio Una fetta Di salvezza Dobbiamo giocarcela Con l'obiettivo Di fare gol E possibilmente Di vincere Dice il centrocampista Ilari Servono Massima Attenzione E determinazione In basso Il calcio A 5 Il Pescara Fa un tentativo Per Riccardigno Stasera Legare Uno Delle semifinali Con Biancazzurri A Napoli Acqua e Sapone Acchieti In campo Il DS Matteo Iannascoli I giorni scorsi A Madrid Per sondare Il terreno Con il portoghese Dell'Inter Movistar Ritenuto Tra i migliori Giocatori Al mondo Prima abbiamo letto Di Benali Ricorso Respinto Quindi confermate Le tre giornate Di squalifica Campionato finito Per il giocatore Del Pescara Invece Per l'Aquila È andato a buon fine Il ricorso Per l'attaccante Peluso L'Aquila ritrova Peluso E domenica Faccio gol La corte sportiva Di appello Revoca La giornata Di squalifica All'attaccante Che sarà disponibile Per la finale Playoff Del girone G Di serie D Domenica A Rieti E poi Per il calcio Direttantistico Loreto In seconda categoria Nel nome di Piero Trionfo dedicato Al compianto Allenatore Piero Di Pietro Scomparso A Ricopiano Per il basket Di A2 Playoff E playout Sponda playoff Fattore campo e cuore Roseto Dà l'assalto Alla Virtus Alle 20 e 30 Al Palamagetti Gara 3 Di quarti di finale Coach di Paolo Antonio Dice il pubblico Sarà il sesto Uomo in campo La serie E sull'uno pari Dopo le prime due Gare giocate A Bologna Con il blitz Rosetano In gara 1 E la netta Vittoria Della compagine Virtusina In gara 2 La Proger La Proger Chieti Nella Bolgia Di Forlì Per l'impresa Le furie Con il dubbio Allegretti Stasera in trasferta Per dare un seguito Al successo Di martedì E ipotecare La salvezza Anche in questo caso Si parte dall'1 A1 Maturato nelle due gare Di Chieti Ma la Proger Deve ribaltare E deve riprendere Il fattore campo Amatori e Campri Siamo in serie B La stessa voglia di vincere In B I pescaresi sfidano Montegranaro Per allungare la serie I farnesi Contro Barcellona Pozzo di Gotto Pescara sotto 2-0 Nella serie Deve vincere Per restare in vita Mentre Campri Ha ribaltato Il fattore campo E può chiudere la serie Vincendo le due gare Del Pala Borgognoni Lasciamo il centro E andiamo a vedere Le pagine del messaggero Le pagine dello sport Prima di congedarci E siamo all'intervista Ha realizzata un ex allievo Di Zeman Come Roberto Rambaudi Zeman e Pavone Le certezze Dice Roberto Rambaudi Ex stella Di Foggia e Lazio Oggi opinionista Sarai il Boemo E in anticipo Di 10 anni Basta pensare Come ha saputo Reinventare Verratti Il Pescara sarà Una protagonista Assoluta L'anno prossimo Non ha scelto Ritornare per la salvezza Quanto per programmare La futura stagione Poi come abbiamo già visto È finita 4-1 L'amichevole ieri Giocata al Barbati di Pescina Contro l'Unicusano Fondi Per la Lega però Ilari Il Teramo deve vincere E chi segna Segna 200 supporters Al seguito della squadra Partita ieri Verso Lumezzane Forfè Importante Poi Per la serie D L'Aquila Rieti Può contare Su Peluso Calcio A 5 Acqua e Sapone Luparenze Con vista Scudetto In campo A Chieti Alle ore 20 Bisogna fare risultato Il nuovo Fortino E' appunto Il Palazzo Santa Filomena Di Chieti Dove L'Acqua e Sapone Ha ribaltato E vinto La serie Dei quartieri finale Contro La Cogianco E questa sera Gara 1 Con la Luparenze Pinto Sono gli avversari Più in forma Loro sono i favoriti Ma con l'appoggio Del pubblico Possiamo tentare L'impresa E poi ancora Pescara Su Ricardinio Agita La vigilia Ricardinio Un po' La stella assoluta Mondiale Del calcio A 5 Per i direttanti Depositata La querela Del Real Giulianova Contro il presidente Della nuova Sant'Egidiese Per il basket Roseto punta Sulla torcida Del Palamaggetti La progera Forlì Obbligata Al successo Coach Di Paolo Chiede a Davis Giocate Di classe Poi ancora Per il rugby L'Aquila Dovrà sfidare Il grande Ex Valerio Santillo Nella finalissima Con i Medicei Poi pescare Campi in casa Per gara 3 Dei playoff Di basket Poi notizie Anche dalla MotoGP Yannone La Suzuki In gara Sulla mitica Pista Di Le Mans Finiamo Qui con la Rassegna stampa Di mattino 6 Vi ricordo Gli appuntamenti Informativi Con il TG6 Le tre edizioni Principali Del nostro Notiziario Alle ore 14 Alle ore 19 E alle ore 23 Io ringrazio In regia Claudio Di Giacomo Ringrazio voi Che ci avete seguito Nel corso Di questa mattinata Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti